Buongiorno a tutti. Allora è finito il primo tempo della partita dell'Argentina-Messico, due maroni e mezzi. Comunque, dopo le news arrivano le con news. La prima con news riguarda un po' di curiosità su un'attrice brava, 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 tanto tanto brava, 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 brava. La seconda notizia, se ce la faccio, riguarda invece un attore che è iniziato con un film, diciamo un film sulla musica, ecco, sulla musica, sul ballo, sul fatto che in quella cittadina lì la musica e il ballo non erano visti bene, perché era successo una determinata cosa. E l'ultima cosa riguarda il nostro lago. Il nostro lago e due imbarcazioni datate del nostro lago, che ormai ne sono rimaste veramente poche, perché non si usano più, da ormai più di cent anni. Perché è arrivato The Progress, il progresso, e le ha soppiantate. Ma partiamo con la prima call news che riguarda appunto quest'attrice brava, 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 bravissima. Il 4 luglio 2002 Giulia Roberts e Daniel Moder si sono sposati in un ranch a Taos del Nuovo Messico, ormai vent'anni fa. All'epoca la Roberts era all'apice della sua carriera, scusate il raffreddorino, e probabilmente era l'attrice più richiesta al mondo. Un anno prima aveva vinto l'Oscar per Erin Brockovich, un film per il quale è stata pagata 20 milioni di dollari. Tra l'altro è diventata anche la prima donna della storia di Hollywood a ricevere un compenso dal libidine così alto per un film. e stava accumulando apparizioni in blockbuster come Ocean's Eleven. E Moder era allora un assistente operatore, poi è diventato direttore della fotografia. Senza molti crediti è completamente sconosciuto al grande pubblico e persino all'industria. La loro relazione al successivo matrimonio sono state una grande sorpresa per il mondo e per la becca del cinema, ricordando in qualche modo la storia d'amore fittizia della Roberts con Hugh Grant in Doty Hill. Dopo vent'anni il matrimonio si è dimostrato uno dei più solidi di Hollywood e i due sono ancora vicini, come il primo giorno. Come l'attrice ha svelato questa settimana della settimana appunto di luglio della loro, diciamo, del loro anniversario, ventesimo anniversario, postando su Instagram una foto di loro due che si danno un bacio appassionato. 20, punto esclamativo, non riesco a smettere di sorridere, non riesco a smettere di baciarti. Ha scritto la Giulietta, la Giulietta a corredo del post. Anche Moder non è stato davvero, è postato una foto dei primi giorni della loro relazione. Oggi abbiamo iniziato il nostro ventesimo anno di matrimonio. Questa foto è stata scattata su una strada polverosa prima che ci venisse la grande idea. Ora sono al fianco di questa bellissima ragazza, giorno dopo giorno. Un giorno epico dopo l'altro. Roberts e Moder si sono innamorati quasi subito, ma hanno aspettato un po' a sposarsi perché entrambi avevano altri partner. Quando si sono conosciuti sul senso di The Mexican nel 2000, il film qui lei ha vegetato con Brad Pitt, lui era sposato da tre anni con la truccatrice argentina Vera Steinberg e l'attrice di Pretti Nuovo aveva una relazione con l'attore Benjamin Bratt. Infatti, prima che Moder entrasse nella sua vita, la Bordo ha persero la nota, scusate il raffreddore, per avere relazioni solo con celebrità, soprattutto attori come Ian Eason, Jason Patrick, Dylan McDermott e Matthew Perry. Le più rilevanti sono state quelle con Kiefer Sutherland, con cui ha rotto nel 1991, appena tre giorni prima del matrimonio, e con il cantante country Lyle Lyle Lovett, con cui è stata sposata tra il 1993 e il 1995. Moder ha concluso il divorzio nel 2002 e ha sposato l'attrice una volta risolta la parte legale. Un anno dopo, la Roberts è andata da Offra Winfrey per un'intervista alla rivista Q e ha parlato apertamente del suo matrimonio. La stessa Winfrey ha notato la felicità dell'attrice e le ha chiesto spiegazioni. Ha molta a che fare con il mio matrimonio, mio marito Danny mi ha illuminato, da sposata ho incontrato persone e vissute esperienze che hanno nutrito la mia vita in modo incredibile. Quindi hai dimostrato la teoria che una persona ricca e famosa puoi sposare qualcuno che non è famoso e avere un matrimonio di successo, le ha chiesto la Winfrey. La sua risposta è stata sì, non si sposano i lavori, si sposano le persone. Può sembrare un cliché e l'ho detto mille volte, ma credo di essere fondamentalmente la stessa persona semplice che sono sempre stata. Faccio solo qualcosa di ostentato e assurdo che porta la gente a pensare che sono ultra fascinosa, ha detto o ha disse l'attrice. Negli anni invece immediatamente successivi al matrimonio, la carriera della Roberts ha continuato a salire. Nel 2003 ha nuovamente battuto il record di attrice più pagata di Hollywood, ricevendo 25 milioni di dollari per la sua interspettazione in Mona Lisa Smile. Nel 2004 ha pubblicato due successi al bottegrino, Closer e Ocean Twelve. Più tardi, all'età di 37 anni, dalla luce gemelli Phineas e Hazel e la sua corriera cinematografica passa in secondo piano. Nel 2005 ha fatto solo un cameo in un video musicale della Dave Matthews Band e nel 2006 ha prestato la sua voce a Hunt Balli e Charlotte Webb. Un anno dopo fa un grande ritorno in la guerra di Charlie Wilson, ma anche il suo terzo figlio Henry e decide di non lavorare al ritmo degli anni 90 e dei primi anni 2000. Si è invece concentrata sulla scelta curata dei suoi progetti, non sempre commerciali, come August per il quale è stata nuovamente candidata all'Oscar e sulla priorità data ai suoi figli, affinché potessero avere un'infanzia normale il più possibile lontana dai riflettori. Vediamo che cosa ha detto la Giulia in merito. Non è stata una decisione premeditata quella di lavorare di meno, ma stavo lottando per trovare cose che mi interessassero e poi sono rimasta sorpresa da quanto velocemente passano gli anni, disse la Roberts in una recente intervista al New York Times, che poi ha aggiunto, poi c'è anche il problema di consigliare gli orari di lavoro di mio marito, gli orari scolastici dei miei figli o le vacanze estive. Non posso buttarvi in un progetto solo perché lo voglio. Provo molto orgoglio quando sto a casa con la mia famiglia e quando sono una mamma casalinga. E qua mi sa che qualche femminista non sarà troppo d'accordo, qualche associazione femminista. Comunque proseguiamo. Sia la Roberts che Modern hanno fatto del loro meglio per tenere i loro figli lontano dall'esposizione all'Ubidiana durante la loro crescita. Tanto che nel 2014 l'attrice ha confessato a Express che non sanno cosa faccio per vivere. Questo non è ancora entrato nella loro vita. Sono bambini piccoli e io sono solo la loro madre, quindi non devono occuparsi di nient'altro, ha detto lei. I gemelli stanno diventando maggiorenni e si stanno avvicinando al college. Tuttavia Eser ha fatto il suo debutto sul Red Carpe del Festival di Cannes l'anno scorso per accompagnare il padre alla prima del film Flag Day, di cui era direttore della fotografia. Modern hava anche condividere su Instagram le immagini degli altri due figli, che pratica lo sport come lo skateboard e il surf, di cui è appassionato. Con i figli ormai grandi la Roberts è anche tornata a lavorare più spesso, soprattutto in televisioni e serie prestigiosi come Uncoming e la recente Gaslit con Sean Penn. Quest'anno tornerà anche alla commedia romantica, il genere che l'ha resa famosa accanto al suo caro amico e partner di molti film George Clooney in Ticket to Paradise. L'accumularsi di altri progetti l'ha riportata alla ribalta nel mondo delle prime e delle interviste promozionali. In una delle ultime, per Sirius XM, gli è stato chiesto quale sia il segreto per un matrimonio duraturo e la Roberts ha risposto senza mezzi termini. Due bagni separati e tanti baci. Bene ragasoli, dopo i consigli della Giulia Roberts, che è sposata da vent'anni con un perfetto sconosciuto nessuno nel mondo della... che adesso è diventato direttore della fotografia, ma prima era lì, così, a dare una mano. Vedete che non vuol dire... tutti pensano ma devo essere qua, devo essere qua. Perché il colpo di fulmine può colpire anche l'attore, l'attrice e un perfetto sconosciuto può sposarsi la topolonza. O una perfetta sconosciuta può sposarsi il topolonza. Ma passiamo ad altro. Kevin Bacon ha una solida carriera cinematografica alle spalle, ma ancora oggi il suo nome viene associato principalmente ad un film, Footloose. Nella pellicola del 1984, diretta da Herbert Ross, Bacon interpreta Ren McCormack, il ragazzo che da Chicago si trasferisce nella piccola cittadina campagnola di Beaumont e che riesce, con tanta corpabilità, ad ottenere l'autorizzazione per organizzare il ballo scolastico nonostante il divieto vigente antimusica e antiballo. Il provino e il taglio di capelli da 1500 euro. Bacon aveva già avuto piccole parti in film come Animal House venerdì 13 e a cena con gli amici, ma con Footloose diventò una vera e propria star, idolo delle teenager. Come ha raccontato lui stesso in diverse interviste, per ottenere la parte fu sottoposta ad un bel screen test. Una delle produttrici principali del film riteneva che avesse abbastanza sesspile, mentre il regista e altri produttori insistettero per fargli fare più provivi, pagando anche di tasca proprio alle varie attrici coinvolte, i truccatori e i costumisti. Il giorno dello screen test ufficiale, Bacon aveva a disposizione un team di stilisti molto costoso. Pensate che quando si è preso al tono e i camerini gli dissero che avevano ingaggiato un parrocchiere famosissimo che gli avrebbe fatto un taglio di capelli della bellezza di 1500 dollari, forse per quello che alla fine riuscì ad ottenere la parte. Secondo Kevin Bacon, il copione del film specificava quanto fosse importante la parte ballata e non si aspettava di dover studiare con un coreografo. Prima delle riprese studio danza per tre settimane, oltre a seguire un intenso allenamento di ginnastica. Fu lui a girare tutte le scene di ballo, tranne alcune sequenze della celebre scena del magazzino, dove gli furono affiancate ben quattro controfigure. L'attore ha rivelato di aver odiato questa cosa. Ero furioso. È come quando un lanciatore titolare viene tolto dalla partita. Nessuno vuole sentirselo dire. Aveva una controfigura ballerino e due controfigure ginnasti. Tutti vestiti come me. Mi sono sentito malissimo. Bene, una curiosità sul mondo. Kevin Bacon. Concludendo, concludendo, dopo due notizie di cinema, cinema, un po' e pure cinema, ma diciamo che sono tutte e due di cose cinematografici, andiamo alla storia. Perché è bello anche svariare, variare, eccetera, eccetera. Siamo alla storia, la storia del nostro laghetto. La storia del comballo di Piona, relitto che riposa 27 metri sul fondo del nostro lago, all'ingresso della baia. Con tutto il suo carico è stata raccontata al museo della barca lariana. Di questo comballo si sono salvate due pentole, una focina, un paio di curai e il rampal, grazie al grande sub Rinaldo Marcelli che era recuperato in fondo all'ario. Nei secoli passati il lago di Como ha rappresentato una straordinaria via di comunicazione su cui viaggiavano barche di ogni dimensione, per scopi e commerciali, di lavoro, ma anche militari, in collegamento tra le sponde e le estremità dell'ario. L'imbarcazione più comune era il batel, usato per la pesca. Era sormontato da tre cerchi su cui veniva attesa una coperta per riparare i pescatori dalla pioggia e dal sole cocente. Oggi questa barca è nota come Lucia, perché in un episodio del famoso romanzo del Mazzoni la protagonista la usa per fuggire. Accanto alle tante piccole barche da pesca navigavano grosse imbarcazioni a vela di vite a trasporto merci, le godole lariane e i comballi. Le godole lariane erano grandi imbarcazioni di legno dotate di albero, vela romana e timone. La lunghezza variava dai 12 ai 28 metri, la larghezza dai 3 ai 7 metri. La portata variava dai 150 ai 1000 quintali di merce. Archi di legno permettevano di coprire con un telone gran parte della barca per proteggere dalle interperie la merce trasportata. Il comballo era diverso dalla gondola, molto più spartano e squadrato. Portava fino a 1200 quintali, era l'imbarcazione più grande del lago di Como. Aveva l'albero con vela romana, il timone somigliava ad un grosso remo, posto lateralmente a poppa. Nella parte posteriore, una piccola cabina chiamata Temb, accanto solo un paio di cerchi per coprire una piccola porzione della barca, mentre il resto era scoperto in quanto trasportava abitualmente pietre e legname, materiale che non necessitava riparo dalla pioggia. Alla fine dell'Ottocento si svilupparono i collegamenti ferroviari e nel Novecento iniziò l'epoca negli automezzi. Le vie terrestri soppiantarono gradualmente le vie d'acqua. Gondole con balli, ormai inutili, vennero sostituite da automobili e camion. Oggi restano sul lago di Como solo due gondole, la Giulia e la Rosina, proprietà della famiglia Barindelli, ormergiate nel molo di Loppia. Con le grandi barche scomparve anche l'abilità di costruirle e di saperle guidare seguendo i venti. Un ball desistito perché secoli si è dissolto in pochi decenni. Bene ragasoli, dopo queste tre belle notiziole io me ne torno a vedere la partita, spero di vedere qualche Goal, almeno uno per parte così siamo tutti felici e contenti perché sennò veramente mi girano i testi. Detto questo ci vediamo alla prossima. Ciao!